Al Senato è stata garantita la dignità di Regione Almolise. A sottolinearlo, in conferenza stampa il senatore Roberto Ruta, con in mano il parere della prima Commissione Permanente Affari Costituzionali di Palazzo Madama, ha evidenziato come sia stato ribaltato il parere della Camera sulla bozza di decreto legislativo di revisione della composizione e competenze del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. In sostanza, eliminato l'accorpamento con l'Abruzzo, il Molise sarà rappresentato nel Consiglio Nazionale dei Cronisti. È stato un ampio e serrato confronto, ha dichiarato Ruta, e ha sottolineato ancora il ruolo avuto anche dal senatore Ulisse Di Giacomo, che ha partecipato attivamente. La Commissione, ha detto in una nota Di Giacomo, ha corretto la precedente posizione assunta dalla Camera. Il Molise eleggerà il suo rappresentante nella componente dei giornalisti professionisti e competerà per l'elezione del rappresentante nella componente dei pubblicisti. Un buon risultato raggiunto con impegno e con la capacità di rappresentare il Molise in Parlamento. Ruta, illustrando il parere, ha spiegato nel dettaglio che la Commissione del Senato, esaminato lo schema legislativo, ha espresso parere favorevole con delle condizioni importanti che nel Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti si è assicurata la rappresentanza di almeno un componente cronista professionista per ogni regione. Dunque, un punto fermo per il Molise è che, poiché la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche sul territorio fa scendere a 19 il numero dei giornalisti espressi dagli ordini professionali, sia escluso tra i 20 pubblicisti eletti in ciascuna delle 20 regioni, chi abbia riportato il numero minore di voti. Questo dà possibilità al Molise se si esprime con compattezza in quanto, in termini numerici, ha più chance della Valle d'Aosta. Ad esempio, la nostra regione, seggio autonomo e così si scongiura l'accorpamento con l'Abruzzo estensore. Del parere il senatore Koliancic, ma nel documento compare anche il sigillo della ministra Finocchiaro del governo con cui si è concordato, ha detto ancora Ruta.